Vedo Crespi che dall'inizio della puntata sorride e io quando c'è il sorriso sono sempre felice e contento Però qua c'è poco da ridere Crespi, tu hai fatto tante campagne elettorali Sei stato lo spin doctor di Silvio Berlusconi, l'inventore del contratto con gli italiani Ho dimenticato qualcosa? Sì, un paio di film premiati a Venezia Fai qualche film premiato a Venezia? Mi dimentichi sempre Tu hai ragioni per sorridere, e Giorgio Meloni non so se abbia così, ha tante ragioni per sorridere Cosa ne consiglieresti tu? Di non dire nulla Ah, cioè tu da spin doctor diresti di non dire nulla Ma perché deve giustificarsi? Sul fascismo Ma scusami però, è il partito di maggioranza di governo? Ormai è diventato un reframe, tu sei fantastico, bravissimo Ne fai una leva fantastica dal punto di vista mediatico, ti applaudo e sorrido per quello Però, primo In genere quando si dice così poi, tadan No, però primo, il primo dato qual è? E' che secondo me la Giorgio Meloni non ha nulla da dire sul fascismo Ha detto tutto No, sui suoi dirigenti Ha detto tutto quello che deve dire Se sono quattro pirla che hanno fatto una stupidata, saranno fatti loro Voglio dire, cioè, io veramente tu credi che in Italia Giorgio Meloni sia un pericolo fascista? No, perché, e questo è il tema Veramente noi in Italia il problema è il fascismo? No No, e allora se questo non è il problema C'è un problema di classe dirigente forse Ma il problema di classe dirigente ce l'abbiamo ovunque Ce l'abbiamo dagli Stati Uniti, alla Francia, all'Italia La classe dirigente, la pochezza della nostra classe dirigente è un problema generale Che in Italia si riverva in maniera particolare Però non è un problema del fascismo E poi, tu fai questa qui, ma è una trovata pubblicitaria straordinaria La pubblicitaria, no E ti faccio veramente i complimenti No, ma non vi prego Però francamente fa bene a non rispondere Guarda qui, dieci giorni E poi perché dovrebbe rispondere? Non a me Posso Non a chiunque Dieci giorni, tredici ore e quarantotto minuti Il professore non è d'accordo con me Professor Bacoli, vi diamo subito la parola Prima però vi facciamo vedere di che cosa stiamo parlando Perché ne abbiamo messi? Bravo Perché sei bravissimo Ma no Tu così smonti la questione Che invece è seria No, che l'ha avvento Figurati Li mettiamo tutti in fila Figurati si può per smontare Lo mettiamo tutti in fila E poi mi dici se è il partito di governo Certo, è il primo partito italiano Bravo, esatto Vediamo Grazie 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 Grazie.